pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati missionari o dimissionari pigri e paurosi o intraprendenti e generosi la parabola dei talenti viene ad illuminarci sul senso profondo della vita e ci mette in guardia da un pericolo serio tutto inizia da un padrone che consegna i suoi talenti ai servi a seconda della capacità di ciascuno a chi 5 a chi 2 a chi 1 attenti parlando di talenti a noi vengono subito in mente delle capacità particolari ad esempio il talento della musica della pittura della danza ma qui si sta parlando dei talenti del padrone non delle capacità dei servi e questi talenti al tempo di gesù rappresentavano beni preziosissimi pensate un talento equivaleva circa a 34 chili d'oro dunque i miei cari da dove si parte dalla generosità di questo padrone dalla bontà del signore che mette nelle nostre mani i suoi beni immensi anzitutto la missione il compito che ci ha affidato e poi la sua grazia i sacramenti dove lui si rende presente la sua parola la comunità nella quale camminiamo e poi in seconda battuta ecco le capacità particolari di ciascuno perché ognuno sia un riflesso unico e particolare del suo volto un detto rabbinico molto bello dice che ognuno di noi è un messaggio d'amore che dio ha mandato sulla terra e dio ci ha equipaggiati di tutto perché ognuno possa compiere la sua missione dunque come ci ha ricordato bene il papa tutto comincia con la grazia di dio che mette nelle nostre mani tanto bene siamo portatori di una grande ricchezza che non dipende da quante cose abbiamo ma da quello che siamo dalla bellezza insopprimibile che dio ha posto in noi perché siamo sua immagine e ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi unico e insostituibile nella storia così ci guarda dio così ci sente dio magari è bello partire da qui dal riscoprirci portatori di un grande bene dalla consapevolezza che la nostra vita che la tua vita è benedetta ora miei cari questo padrone affida i suoi talenti ai servi e parte per un lungo viaggio poi torna e ne chiede conto i primi due servi che hanno fatto loro la fiducia del padrone li restituiscono raddoppiati chi ne ha ricevuti cinque ne consegna dieci chi ne ha ricevuti due ne consegna quattro essi rappresentano l'intraprendenza la generosità si sono messi a servizio degli altri hanno messo a frutto il bene ricevuto e il padrone dice a ciascuno di loro bene servo buono e fedele bellissimo vedete il papa ci ha ricordato che nel vangelo sono buoni e fedeli coloro che si mettono in gioco che non stanno lì cauti guardinghi che non hanno pensato solo a conservare ma si sono messi a servizio perché se il bene non lo si investe lo si perde quanta gente passa la vita solo ad accumulare pensando solo a stare bene più che a fare il bene ma come vuota una vita che insegue solo il bisogno senza guardare a chi ha bisogno e il padrone continua bene servo buono e fedele se è stato fedele nel poco ti darò autorità sul molto attenti questo padrone chiama poco chili e chili d'oro affidati come a dire tutto quello che dio mette nelle nostre mani è poco rispetto a un molto che ci vuole affidare e cosa è lo dice dopo il padrone prendi parte alla gioia del tuo padrone mi cari c'è una cosa ancora più grande che riceverò una missione e compierla c'è qualcosa di ancora più grande che trasmettere la sua grazia che far fluire il suo amore attraverso le nostre povere opere avere in noi la sua gioia i suoi sentimenti avere noi il cuore di dio l'essere partecipi della sua vita della sua vita eterna vita che si dona e gioisce del bene che fluisce e cresce nella vita di tanti e se ci guardiamo attorno già in questa vita possiamo cogliere quanto sia vero se guardiamo la vita di tanti santi della porta accanto giovani o anziani ricchi o poveri che hanno veramente pregato e amato li vediamo portatori di una gioia di una bellezza che parla al cuore che ti parla di un molto che hanno incontrato che è oltre ogni umana ricchezza ogni talento ogni capacità è una gioia che profuma di santità ma che succede davanti a questa bellezza c'è un pericolo rappresentato dall'atteggiamento del terzo servo costrui nascosto il talento non l'ha fatto fruttificare il motivo ascoltiamo la sua risposta data al padrone signore so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra ecco ciò che è tuo dunque costui non ha fatto suo questo talento non si è industriato per farlo fruttificare perché perché ha avuto paura del padrone fuori metafora cos'è che ti impedisce di far fruttificare il bene cos'è che blocca lo sbocciare della tua vita cos'è che ci rende mediocri sospettosi paurosi l'avere un'idea negativa di dio pensare a dio come a qualcuno che sta lì con il mitra puntato a vedere se sbagli come a qualcuno la cui volontà è pesante inutile come se dietro ai suoi doni ci fosse un inganno non entrare nelle cose di dio per paura di dio un pensare male di lui e dell'opera che ci ha dato da compiere in questa vita guardate miei cari sembra una cosa da poco ma è molto profonda mi è capitato di incontrare tante persone bloccate nel fare un passo in avanti nella vita perché di fondo c'era la paura di sbagliare c'era la paura di dio ora è chiaro che è importante fare un sano discernimento che ci vuole prudenza che in fondo è lo spirito santo che detta il ritmo ma qui c'è un problema che la paura fa da padrona e allora non si cerca il meglio non ci si chiede se questa cosa da gioia se aiuta a servire di più e meglio dio e gli altri conta eludere la paura e dunque la paura che non sia la cosa giusta la paura di aprirsi a una novità alla luce del vangelo e questa paura ti porta a stare lì nel tuo recinto sicuro in quella zona comfort che ti impedisce di metterti in gioco di osare di fare un passo in avanti ma come ha detto il biblista maggioni chi si chiude in se stesso per paura e rifiuta le occasioni che gli si offrono diventa sterile sempre più inutile e forse questo il senso della frase a chi non ha sarà tolto anche quello che ha passate all'esempio pensate ad un fiammifero e se per paura rifiutasse di lasciarsi accendere per carità resterebbe lì in tonso nella scatola ma non farebbe luce a nessuno ora miei cari san paolo ci ha detto che noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura ma uno spirito di figli per cui gridiamo abbà padre papà dio è nostro padre ci dà fiducia ed è proprio la fiducia in lui in un dio generoso che ci consegna tutto e si consegna tutto per noi che ci aiuta a sbocciare ma come possiamo pensare un dio puntiglioso duro intransigente ma guardiamo alla nostra vita ma quanto è grande la generosità di dio ma quante cose ha coperto la sua misericordia ma quante occasioni immeritate continuamente ci ha dato e ci continua a donare ecco miei cari abbiamo bisogno di ripartire da questa intuizione bella di dio capire che la sua volontà non è un peso è una grazia che il suo disegno su di noi non è una fregatura è il meglio che compiere l'opera che ci ha affidato è la cosa più bella che ci possa capitare è che dio non viene per chiedere viene per dare e se chiede è solo per dare molto di più è vero a volte tutto ciò non è immediatamente chiaro a questa consapevolezza ci si arriva attraverso momenti dolorosi pensate a chiara corbella che dopo la morte dei suoi primi due figli appena nati nella lettera testamento al figlio francesco scritta prima di morire dirà non scoraggiarti mai figlio mio dio non ti toglie mai nulla se taglia e solo perché vuole donarti tanto di più grazie a maria e davide noi ci siamo innamorati di più della vita eterna e abbiamo smesso di avere paura della morte dunque dio ci ha tolto ma per donarci un cuore più grande e aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita fidati ne vale la pena dunque cari fratelli e sorelle cosa vogliamo chiedere al signore che possiamo ripartire da questa intuizione di bellezza su di lui e sulla nostra vita che ciascuno di noi possa riscoprire la gioia del voler compiere la volontà di dio l'opera che egli ci ha affidato certi che lì emerge la nostra bellezza la nostra importanza non importa se siamo sani o ammalati sedotti o illetterati se ricchi o diseredati ciò che conta è che ciascuno di noi sia ciò che dio ha sognato ognuno di noi ha le sue grazie le sue benedizioni per essere benedizione per la vita di tanti certi che come ha detto san paolo chi semina largamente largamente raccoglierà che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti il buon dio